Cari visitatori digitali, lockdown ricorrenti, restrizioni di viaggio, domanda fluttuente, ecco le sfide difficili che l'industria deve affrontare oggi. Vi chiedete come superarle? Le principali soluzioni derivano da un migliore utilizzo dei dati che molto spesso già esistono nelle vostre applicazioni. E noi, in Schneider Electric, vogliamo essere vostro partner ed accompagnarvi nel percorso di trasformazione digitale. Visitate il nostro marketplace virtuale e scoprite come possiamo aiutarvi a rendere le vostre macchine o impianti più connessi, più efficienti, più resilienti e più sostenibili. Vi aspettiamo!